Il crossfit mi ha cambiato la vita. A dirlo è Bianca Belair che in una recente intervista ha confessato di aver vissuto in passato dei momenti molto problematici. Infatti dice che per parecchio tempo ha avuto una relazione non salutare con il cibo. Quando era all'high school Bianca correva in pista ed era molto muscolosa ma in tanti le hanno suggerito per abbassare i tempi di perdere peso e questo l'ha portata a diventare bulimica. Esistono diversi tipi di bulimia io non sono un medico però c'è quella normale c'è quella nervosa ed è una sensazione di fame. Ho fame mi abbuffo poi però me ne pento quindi o faccio una dieta strettissima quindi digiuno oppure espello il cibo autoinducendomi il vomito. Poi ci sono mille altri rivoli per ora la descrizione la spiegazione prendetela per buona almeno un'infarinatura. Poi però Bianca si è infortunata quando passa al college deve stare ferma e capisce che non è la vita che vuole capisce che deve darci un taglio che deve sistemare le cose anche perché sviluppa una sindrome che la porta a mangiare in maniera molto disordinata e scellerata ed è qui che incontra il crossfit vede le atlete muscolose in perfetta efficienza fisica che fanno degli esercizi li svolgono abitudinariamente che sono pazzeschi e lei se ne innamora quindi si dedica al crossfit riequilibra i suoi cicli per quanto riguarda il cibo i pasti l'approvvigionamento di carboidrati proteine e via dicendo e diventa l'atleta che oggi conosciamo. È una bella storia può sembrare semplice ma credo che sia ad esempio e magari anche d'aiuto per tanti non c'è profondità così immensa dalla quale non si può risalire e pensate anche una come Bianca Belair che insomma ha avuto il suo bel da fare eppure poi è riuscita a centrare tanti obiettivi che si era proposta nella sua vita.